togliamoci un po di dubbi un po di incertezze preferirei oggi avere la fiat 600 nuova così come la comprai nel luglio del 1999 o la fiat punto 1.395 cavalli diesel così come l'ho comprata e mi è stata consegnata il 19 dicembre del 2017 io senza nessuna esitazione senza nessun dubbio dico che preferirei avere per sempre la fiat 600 così come l'ho avuta